Consiglio regionale oggi all'Aquila sul piatto tante interpellanze sul tema sanitario che hanno avuto risposte in aula dall'assessore regionale della sanità Nicoletta Veri che ha parlato anche del personale ma in ordine del giorno anche il progetto di legge sull'esternalizzazione del servizio di gestione degli archivi dei geni civili regionali, vari provvedimenti amministrativi sulle ATAR. Un progetto di legge importante però di cui si parla da giorni è quello annunciato dall'assessore Damario dai capigruppo di maggioranza nei giorni scorsi di cui fa il punto il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Cinque strumenti finanziari per 10 milioni di euro a sostegno della ristorazione abruzzese. Baccini e provvedimenti del genere per Sospiri sono l'unica strada per uscire dalla crisi. Abbiamo con l'assessore Damario chiamato in causa a tutte le associazioni di categoria ed è scritto con loro una modalità con il quale la regione per il tramite appunto di cinque linee finanziarie con uno stanziamento di 10 milioni di euro crea una leva finanziaria in accordo con gli istituti bancari presenti a questa riunione e lavori di formulazione di questa legge chiaramente per rendere lo stanziamento molto 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 più ampio. L'obiettivo è una linea di finanziamento diretta in cui la regione copre il merito creditizio e una quota di monte interessi e poi tutta un'altra serie di misure diciamo innovative compresa la partecipazione al capitale sociale a seconda dell'importanza della grandezza. Torna tra gli argomenti del consiglio anche la questione nomine più volte saltate perché non si trovava la quadra su questo l'opposizione accusa con il capogruppo dei pentastellati Sara Marcozzi che interviene anche sulla sanità abruzzese. Sono le nomine di interesse della maggioranza soprattutto perché come al solito si rallentano i lavori del consiglio si passano questi ordini del giorno sulle nomine da un consiglio all'altro perché non trovano la quadra sui nomi quando insomma basterebbe trovarli sulle competenze. Nel frattempo l'Abruzzo aspetta, il presidente Marsilio ha presentato un progetto diciamo un programma per l'Abruzzo che di fatto un programma non è non concertato con le parti sociali e non condiviso con l'opposizione insomma purtroppo poco e niente per l'Abruzzo e gli abruzzesi. Io credo che poco si sia fatto sul tracciamento e sulla informazione corretta dei cittadini. Qualcosa nella macchina organizzativa sicuramente non ha funzionato. Spero che cominci diciamo così a funzionare e che la campagna di vaccinazione anche in Abruzzo viaggi un po' più spedita.